Dopo l'affidamento da parte del Comune di Monopoli al Consorzio Teatri di Bari, il sipario del Radar, il nuovo contenitore culturale della città riaperto dopo 33 anni, si alza per la prima stagione di prosa. Un passo importante nel percorso di valorizzazione dell'offerta culturale, come sottolineato dal sindaco di Monopoli, Angelo Annese. Va regato il cartellone curato da Teresa Ludovico, più un progetto speciale curato dal presidente onorario del Tric e premio Strega 2015, Nicola Laggioia, con diversi appuntamenti rivolti anche a un pubblico giovanile e alle associazioni locali. Una prima stagione che registra l'impegno dell'amministrazione comunale di Monopoli e del Consorzio Teatri di Bari, per avvicinare un numero sempre maggiore di persone al mondo del teatro. Diverse le riduzioni previste sull'acquisto di biglietti e abbonamenti, tra cui una convenzione tra Teatro Radar e Fondazione Petruzzelli. Finalmente Monopoli ha nuovamente il suo teatro, il suo teatro che apre i battenti da adesso in poi, da adesso in avanti, finalmente affidiamo ai Teatri di Bari la nuova gestione di questo nuovo luogo culturale della città di Monopoli. Ebbene, questo è il frutto di un lavoro di squadra, un lavoro che viene dalla collaborazione tra comune, tra regione, tra conservatorio, tra ministero e poi tante altre realtà presenti in città. Ecco, da oggi inizia la vera storia culturale del radar nella città di Monopoli.